Come potremmo definire questa iniziativa messa in campo dal Movimento 5 Stelle di Crotone? Sì, è un'iniziativa che non è la solita passerella politica. Noi oggi ci incontriamo per discutere insieme con i comitati, con le associazioni e con i nostri attivisti il futuro della Regione Calabria in merito alla problematica dei rifiuti, che è uno dei temi molto sensibili purtroppo nel nostro territorio. Ci incontriamo per parlare del quadro attuale della situazione, soprattutto nel Crotonese, e delle proposte che noi abbiamo fatto in tutti questi anni in Parlamento e delle proposte che stiamo facendo anche come forza di governo. Quindi approfondire insieme le proposte che vanno verso la direzione dell'economia circolare dei rifiuti zero e cercare di farle proprie per poter percorrere tutti insieme la prossima sfida elettorale che sono le regionali. Quindi è importante sviluppare una politica virtuosa in Regione, perché è la Regione che deve gestire tutta la materia dei rifiuti e di programmarla nel miglior modo possibile. Un'apertura di campagna elettorale? No, sono cose iniziative che noi facciamo a prescindere dalle campagne elettorali, ma vogliamo appunto tenerci pronti da qui a un anno per soprattutto approfondire insieme ai nostri attivisti questi temi molto importanti. C'è bisogno di fare squadra e di studiare le carte soprattutto. È un tema che veramente può dare un futuro alla nostra regione perché crea occupazione, però se viene gestita esattamente come è stata gestita anche dall'attuale governatore della Calabria, è chiaro che questo settore va a favorire solo i privati e purtroppo anche le criminalità organizzate. Da quello che è emerso da questo incontro, che cosa possiamo dire a proposito dei rifiuti? Possiamo dire innanzitutto che ci sono degli esempi, non solo in tutto il mondo ma anche in Italia, di esempi virtuosi che possono veramente creare lavoro. Certo è che serve anche una lungimiranza da parte della politica, se non c'è una politica seria di prevenzione è inutile parlare di discariche zero. Il nostro è un territorio martoriato dalle discariche, dobbiamo fare in modo di ridurre il quantitativo di rifiuti da portare in discarica e di cercare di portare più materia prima e seconda nel ciclo produttivo. Ed è quello che stiamo facendo a livello nazionale. Per fortuna nel contratto di governo c'è tutto il tema dei rifiuti zero, allora noi come Stato cercheremo di fare il possibile per fare una rivoluzione del codice ambientale ma poi la Regione deve fare un piano di gestione dei rifiuti come si deve e soprattutto attuarlo perché è inutile farlo per poi non attuarlo come nel nostro caso regionale calabrese. Purtroppo si è perso troppo tempo e purtroppo ad approfittare di questo sono i privati. Lei sta dicendo che il ciclo del riuso diventa importante per un ambiente da salvaguardare? Sì, i centri di riuso devono essere innanzitutto creati per fare in modo che diversi rifiuti considerati speciali come i nostri elettrodomestici, televisioni, frigoriferi spesso noi siamo abituati da calabresi a vederli nei nostri torrenti, nei nostri fiumi, nei nostri mari. Ecco, questi sono considerati appunto rifiuti speciali e come tali devono essere considerati. Quindi portare questi rifiuti in incentri di riuso per recuperare le materie più importanti che sono materie veramente, sono considerate risorse nel rifiuto e rimettere nel sistema produttivo. Questo già avviene in parecchi paesi, non vedo perché non debba accadere anche in Calabria. È importante anche pensare di dover educare il cittadino per quanto riguarda la differenziata e soprattutto per avere rispetto dell'ambiente insomma. Sì, questo deve soprattutto partire dalle scuole, i nostri ragazzi, soprattutto i più piccoli, devono imparare a fare per esempio il compostaggio e quindi già se risolviamo il problema di tutta la materia organica dei rifiuti noi risolviamo già la metà dei problemi legati a tutti i rifiuti. Il problema dell'organico è un problema serio, spesso le nostre discariche sputano fuori questo percolato che crea un danno ambientale alle nostre falde acquifere e ai nostri mari. Ecco, dobbiamo evitare di produrre altro percolato se facciamo un compostaggio, una politica di compostaggio seria, soprattutto dalle scuole. Cioè i nostri ragazzi devono imparare a saper creare questo nuovo humus che poi serve anche per i parchi pubblici ma anche per l'agricoltura. Spesso i nostri coltivatori diretti sono costretti a comprare questa importante risorsa quando noi ce la possiamo creare da soli e garantendo ai cittadini calabresi anche uno sconto sull'Atari in modo tale da poter alleggerire anche le tasse. Un'altra cosa, parliamo del mare, la plastica nel mare ha raggiunto dei livelli veramente esagerati per cui c'è bisogno di difendere anche il mare. Sì, siamo molto contenti che il nostro ministro Costa stia intraprendendo queste politiche di plastic free. L'esempio deve partire soprattutto dalle istituzioni e il Ministero dell'Ambiente sarà il primo ministero in Europa ad essere un ministero plastic free. Lo stesso faremo anche come Parlamento, quindi se è la Camera che è al Senato cercheremo di eliminare la plastica dagli enti pubblici. E lo stesso bisogna farlo anche a livello privato. Noi dobbiamo tassare chi ancora produce questo tipo di plastica che non si possono riciclare e poi vanno a finire i nostri mari e dobbiamo detassare tutte quelle innovazioni che vanno a creare questa bioplastica che si può riciclare nel tempo e che quindi non crea un danno anche alla fauna marina. Per quanto riguarda la bonifica di Crotone che cosa possiamo dire? Sulla bonifica di Crotone si è perso troppo tempo. I crotonesi continuano purtroppo a morire in silenzio. Noi dobbiamo veramente fare un piano operativo efficiente, efficace e che dia veramente la sicurezza alle prossime generazioni qui a Crotone. L'attuale commissario ormai non c'è più perché è scaduto il suo mandato e come governo faremo di tutto per portare avanti con un nuovo commissario un piano operativo veramente come si deve, è portato avanti anche dal basso perché noi oggi stiamo per parlare anche di tutto il tema legato alle bonifiche che deve far parte anche del piano regionale ma qua si parla di una bonifica che è una competenza statale quindi di un'area SIN. Allora noi dobbiamo assolutamente velocizzare il tempo e dobbiamo velocizzare questo percorso volevo dire e dobbiamo farlo insieme ai cittadini perché questi sono rimasti inascoltati per tutto questo tempo quindi se questa cosa si fa assieme alla città di Crotone sono sicuro che possiamo farla anche in tempi brevi affinché si ha veramente bonificato il territorio da Crotone e una volta e per tutte regalarlo appunto ai cittadini crotonesi. Siamo qui perché parliamo di ambiente, parliamo di rifiuti, parliamo dunque della necessità di riorganizzarci e di avere una terra che risponda ai crismi non solo della legalità ma anche del rispetto della natura e di tutto ciò che ci compete. Sì certo e della qualità della vita vorrei dire per prima cosa, si è parlato di rifiuti urbani, chiamiamoli così questa mattina adesso di rifiuti industriali e quindi del tema della bonifica sono due tematiche importanti soprattutto a Crotone dove come è noto per restare al primo argomento non si fa di fatto raccolta differenziata perché siamo all'8% che è una percentuale ridicola mentre entro il 2020 dovremmo avere superato il 20% a livello nazionale e nello stesso tempo invece per quello che riguarda la bonifica rispetto ai 70 anni di industria chimica che abbiamo avuto e quindi a tutte le conseguenze di lunga durata che questo comporta siamo ancora in una situazione in cui non è neppure chiara l'orientamento che si dovrebbe avere sia per l'area che rientra nel SIN quindi la bonifica degli ex stabilimenti industriali e delle zone circostanti compresa la parte a mare sia invece fuori dal SIN, il resto della città, Crotone è impropriamente fuori dal SIN io oggi ho fatto un breve intervento sulla questione dei tenorm nel castello proprio l'ho pensato in maniera esemplare per dire di come non affrontiamo o affrontiamo in maniera impropria queste problematiche ma era soltanto un elemento di una realtà molto complessa, molto articolata rispetto alla quale finora soprattutto i nostri amministratori a livello locale e regionale non hanno fatto sempre l'interesse dei cittadini e quindi ci troviamo a correre il rischio che la bonifica che si deve necessariamente fare se vogliamo che le prossime generazioni continuino a vivere in questo luogo non ha ancora preso la strada che è opportuno che prenda e dunque per esempio con il collega Di Polito che è in Commissione Ambiente ci siamo noi parlamentari locali, ci stiamo coordinando proprio per riuscire a portare l'attenzione del Ministro come del resto abbiamo fatto anche individualmente fin dalla partenza di questo governo ci stiamo impegnando appunto perché la bonifica diventi sia per noi crotonesi sia per il Ministero la bonifica di Crotone, del SIN Crotone Cerchiara Cassano diventi realmente una priorità Siamo sempre in ritardo, lei questo sta sottolineando? Siamo in grave ritardo e le scelte che vengono compiute oggi hanno ovviamente ripercussioni particolarmente sensibili su quello che sarà il futuro della città per questo non bisogna sbagliare, non bisogna intanto avere timore e guardare in faccia la realtà e mi riferisco ancora una volta al problema dei Tenor in 30 anni di funzionamento del forno fosforo sono state prodotte quasi 2 milioni e mezzo di tonnellate di questi rifiuti industriali radioattivi di conseguenza siccome si credevano inerti e sono stati utilizzati liberamente al posto della ghiaia degli inerti sia come sottofondi stradali sia purtroppo anche nei Vespai delle abitazioni ecco che noi dobbiamo, i consiglieri comunali l'hanno chiesta nei giorni scorsi intanto dotarci di una mappatura il più possibile completa di quella che è la presenza di questo materiale in giro per la città tenendo conto anche che nel momento in cui si combina con il Radon quindi se parliamo di sottofondi, dei solai delle abitazioni e di questo gas naturale che fuoriesce dalle viscere della terra ma che è un cancerogero di categoria 1 combinato con il Tenor acquista ancora un'incidenza maggiore che dobbiamo considerarla assolutamente un'emergenza e i Tenor sono solo uno dei residui industriali presenti a Crotone quindi è proprio una problematica seria che va affrontata a 360 gradi anche dal punto di vista della prevenzione sanitaria cioè non solo ci dobbiamo preoccupare dei dati epidemiologici relativi alle malattie oncologiche che sono ampiamente presenti nella nostra popolazione ma dobbiamo anche fare un passo ulteriore cioè capire, e io ho per esempio un incontro proprio nei prossimi giorni presso l'Istituto Superiore di Sanità capire come riuscire a fare delle verifiche e a orientare la popolazione su comportamenti che consentano di prevenire l'insorgenza delle malattie siamo in qualche modo, anche se ancora non lo siamo ufficialmente un caso di studio se vogliamo e come tale dobbiamo pensarci e dobbiamo farci trattare quindi ci vogliono le risorse che consentano anche di mettere sotto il corretto controllo la popolazione rispetto alle conseguenze sulla salute pubblica di quanto è accaduto in questi 70 anni in cui le fabbriche hanno portato oggettivamente sviluppo a Crotone prima che fossero impiantate avevamo 10.000 abitanti siamo arrivati a 70.000 all'inizio degli anni 90 però c'è un prezzo da pagare e lo paghiamo noi e le generazioni a venire io le lancio una provocazione si è creato un po' un clima di terrore in questa città proprio per tutte queste segnalazioni che il Movimento 5 Stelle sta facendo è un clima di terrore che si può in qualche modo sciogliere, stemperare? No, il terrore non ci deve appartenere però neanche possiamo pensare di chiudere gli occhi davanti alla realtà non è che il Movimento 5 Stelle improvvisamente ha scoperto che ci sono questi problemi in città e che molto spesso i nostri amministratori hanno preferito che Crotone passasse per la città del Mulino Bianco quindi hanno preferito nascondere, non parlare, spostare l'attenzione da questi temi e invece bisogna guardare in faccia la realtà più è chiara la situazione, quindi meno opacità ci sono e più la gente saprà come difendersi rispetto a situazioni che sono reali non frutto di fantasie si parla tanto, ci sono dei miti in città per esempio chissà cosa c'è sotto l'ospedale abbiamo parlato insieme alla collega con l'ARPAC proprio la settimana scorsa ci hanno detto delle verifiche che sono state fatte quindi quello non è uno dei casi di cui ci si deve preoccupare ma ce ne sono tanti altri basta pensare all'ex Ciapi ad altre situazioni analoghe che invece sono realmente pericoli concreti e quindi lì si deve intervenire quindi l'informazione è sempre meglio dell'ignoranza lei me lo insegna di conseguenza bisogna anzi essere molto seri e molto puntuali nel decidere di affrontare il problema e quindi fare tutte le verifiche del caso attivare tutte le iniziative che ci aiutano a capire come stanno realmente le cose senza allarmismo, senza timori non giustificati però il timore di quello che potrebbe esserci è peggiore del timore di quello che si sa che c'è questa è una consapevolezza che bisogna avere bisogna mettere anche un freno alle fake news dobbiamo dire perché se no in questo modo si crea un clima di tensione e non si arriva mai a fare un gioco di squadra per il bene della città questo è vero ma i dati che noi abbiamo segnalato noi come movimento, noi come parlamentari sono sempre oggettivi cioè sono stati sempre fatti dei riscontri ogni volta che abbiamo fatto segnalazioni laddove non avevamo certezza perché ancora non era intervenuta per esempio la misurazione di radioattività noi abbiamo detto ci sono rifiuti che hanno caratteristiche simili a quelle di poi c'è stata la verifica dell'ARPA e guarda caso se parliamo di Corso Mazzini piuttosto che del Castello è risultata una radioattività superiore al fondo naturale in entrambi i casi per via dei Tenorm ma altrove c'è il CIC, ci sono le scorie Cubilot sono tante le problematiche ripeto dobbiamo esserne a conoscenza, esserne consapevoli in un certo senso siamo una piccola Taranto però dopo la fine della stagione degli stabilimenti e quindi con le conseguenze del caso per quello insisto sullo studio su Crotone come caso di studio che potrà aiutare anche altri anche diciamo altre realtà che hanno tuttora una sorta di apripista sia pure in qualcosa che ovviamente nessuno di noi avrebbe voluto ma siccome c'è è bene affrontarla e anzi possiamo ripeto essere di aiuto anche ad altri quindi tutto quello che può essere fatto per Crotone e per i crotonesi va fatto Una dolente nota è quella dello stadio senatrice lei sa che i crotonesi non vogliono rinunciare allo stadio si può trovare un compromesso per fare in modo che si giochi a Crotone le partite in casa e dare dei tempi per la costruzione del nuovo stadio? Diciamo che volendo essere concreti il problema adesso è la prossima partita in casa che è il 23 settembre l'unica soluzione e fortunatamente sembra che alla fine l'amministrazione comunale abbia inviato il progetto al ministero l'unica soluzione ripeto è quella di tornare ad utilizzare gli spogliatoi e i servizi che erano del vecchio impianto ovviamente ristrutturati e questo richiederà un certo tempo in modo da non impegnare quelli che sono all'interno delle tribune mobili tribune a tempo le vorrei definire il ministero ha richiesto che sia rispettato il contratto che questa città ha fatto col ministero stesso due anni fa cioè di poter utilizzare quelle strutture mobili che sono mobili proprio perché da smontare per un tempo preciso che sono i due anni dunque io credo che sia abbastanza inutile oltre che infondato sul piano giuridico pensare di chiedere un risarcimento di 3 milioni di euro e andare in tribunale spendendo 11.000 euro per l'avvocato al quale è stato dato l'incarico per contestare le diffide che sono un atto dovuto che il superintendente ha dovuto per l'appunto emanare nel momento in cui alla scadenza di due anni il contratto non è stato rispettato ora la richiesta che finalmente ripeto è stata inviata un paio di giorni fa era stata annunciata il 24 agosto ma è partita solo un paio di giorni fa la richiesta del Ministero è proprio quella di consentire un utilizzo temporaneo fin tanto che i nuovi servizi o meglio i vecchi ristrutturati non saranno disponibili questo è già un atteggiamento un po' più ragionevole e di non contrapposizione perché invece finora quello che probabilmente ha creato le maggiori difficoltà è stato questo procedere contemporaneamente in tutte le direzioni per cui da un lato si dice noi vogliamo mantenere quelle strutture ad ogni costo e quindi anzi vi contestiamo il fatto che abbiate richiesto la demolizione nello stesso tempo però si diceva vi mandiamo un progetto e il progetto non arrivava a Roma cioè ci sono state troppe annunci che rispetto invece alle azioni concrete poi non trovavano una corrispondenza o in ogni caso andavano contemporaneamente in tutte le direzioni quindi uno spaisamento io immagino da parte del ministero dove come ho detto tante volte io ho parlato sia con il ministro sia con il direttore generale cioè il capo del soprintendente di tutti i soprintendenti d'Italia sia con il sottosegretario Giorgetti che ha la delega allo sport e quando ci ho parlato l'ultimo è stato proprio Giorgetti il primo di agosto tutti avevano ben chiara la situazione e avevano nettamente diciamo l'impressione che da parte dell'amministrazione comunale perché è chiaro che non tengono conto o meglio non hanno ben presenti a questo abbiamo pensato io e la collega insomma farglielo presente le esigenze legittime dei tifosi hanno una controparte visto che si trattava in origine di un contratto che non ha rispettato quel contratto quindi c'era la percezione di un essere stati presi in giro due anni fa e di voler fare lo stesso di nuovo per questo credo che le posizioni si sono in qualche maniera irrigidite Sul Gravina? Sul Gravina c'è questa contraddizione per cui nonostante che la riunione fatta in prefettura il 18 luglio abbia messo in grande evidenza le difficoltà rispetto alla possibilità di realizzare la costruzione del nuovo istituto di cui ovviamente il Gravina ha bisogno qualche giorno fa c'è stato un annuncio trionfalistico sostanzialmente da parte della provincia che sostanzialmente diceva stiamo per partire con i lavori addirittura si dava marzo 2019 come momento di partenza e un tempo necessario di due anni dimenticando però da un lato l'esito della riunione in prefettura è emerso chiaramente che non ci sono le risorse per fare questa operazione c'erano presenti la regione, la provincia e gli altri soggetti interessati dall'altro però si è dimenticato tra virgolette che per la stessa area cioè per Acquabona che è di proprietà della provincia esiste una scheda nel progetto Antica Croton come noto io sono molto critica nei confronti di quel progetto della parcellizzazione delle risorse che ha in qualche modo diviso questo mare di soldi in tanti rivoli uno di questi rivoli è proprio l'area di Acquabona dove nel 2010 io stessa ho seguito la sorveglianza archeologica non è stato uno scavo anche questo è da dire cioè lì non c'è stato lo scavo e ora si può costruire c'è stata una sorveglianza archeologica dei lavori di sterro che hanno eliminato il vecchio sfasciacarrozze le attività che c'erano in precedenza e immediatamente al di sotto hanno trovato le creste dei muri di Croton IV secolo a.C. ma lì c'è la città dall'VIII secolo quindi lo scavo è tutto da fare e in più quello che resta del Pozzo dell'Acquabona dove i crotonesi hanno attinto l'acqua e Giano Pelusio lo cantava per le qualità di quest'acqua già nel Cinquecento fino al 1907 cioè quando ha cominciato a funzionare l'acquedotto quindi è un luogo storicamente di straordinaria importanza quindi da un lato c'è questa scheda di antica Croton che lo vorrebbe diciamo così valorizzare per usare una brutta parola che va tanto di moda adesso dall'altro invece c'è questo progetto di realizzazione dell'istituto e la dirigente però la dottoressa Calvo ha detto chiaramente ma lo diceva già da qualche anno che il progetto del 2008 è sottodimensionato rispetto alle necessità del Gravina che oggi ha 47 classi quindi rischiamo di avere una costruzione che a quanto ho letto in quell'occasione è stato detto ha pilastri che non danneggiano i reperti ora non esistono i pilastri che non danneggiano i reperti altrimenti l'ampliamento dello stadio sarebbe stato fatto senza nessuna difficoltà i pilastri non danneggiano i reperti quando noi li collochiamo laddove lo scavo ha detto che non ci sono strutture non ci sono evidenze fisse è possibile parlare scriversi interagire con l'amministrazione comunale e provinciale mancano le risorse in questo momento il progetto del 2008 già nel 2010 quando appunto è stato fatto questo lavoro di sorveglianza archeologica non è stato bloccato dall'esito della sorveglianza semplicemente è stato detto il progetto fatto a tavolino non può essere realizzato così com'è deve tenere conto necessariamente delle preesistenze e quindi va completato lo scavo e poi allora si sapremo dove possono essere collocati i pilastri senza che danneggiano i reperti e anzi possiamo avere dalla compresenza di questa diciamo testimonianza della storia della città all'interno di una scuola quindi di un luogo dove la storia anche locale ha uno spazio importante possiamo avere un vantaggio diventa una delle scuole in qualche modo più attrattive d'Italia perché contiene in sé uno scavo archeologico e se ci mettiamo anche il Pozzo dell'Acquabona riusciamo ad arrivare anche alla storia recente della comunità crotonese quindi un'occasione straordinaria io in questi termini ne avevo parlato con la dirigente un paio di anni dopo insomma quando è subentrata la Calvo al dirigente precedente e però è mancata la volontà da parte della provincia di modificare il progetto in quell'occasione e per quello che ne so al momento le risorse sono quello che manca quindi una partenza a marzo 2019 e una durata di due anni che non tiene conto dello scavo archeologico non ancora realizzato e in questi termini mi sono espressa è una favola che si sta raccontando ai crotonesi l'ennesima favola che come al solito nel momento in cui superato marzo cioè ad aprile non sarà realizzato quello che è stato preannunciato si dirà che è responsabilità dell'archeologia non avere raggiunto l'obiettivo invece si sa già come andrà a finire cioè si sa già che è un obiettivo impossibile da realizzare quello che è stato prospettato questa ipocrisia io ho voluto mettere in evidenza Onorevole lei ha messo questa mattina un post su Facebook che riguarda l'aeroporto di Reggio ma la situazione è una situazione che va soltanto da una parte o che vede anche Crotone inserita nel recupero? Allora io ho dovuto necessariamente scrivere questo post su Facebook perché ci tengo a precisare che il Ministero quindi il Ministro in particolare dando la notizia del recupero di questi voli da Reggio Calabria non ha voluto significare che ovviamente per quanto riguarda Crotone ci sia un abbandono ricordo che un Ministro quindi un Ministro che si occupa di tutto il territorio nazionale e la Regione Calabria essendo a pieno titolo inserita nell'Italia ha diritto nella sua globalità a progredire in ugual misura per quanto riguarda il territorio di Crotone posso dire sicuramente che la situazione è differente rispetto a quella che era la situazione di Reggio Calabria ma che in ogni caso il Ministero si sta occupando dell'aeroporto di Crotone e lo dico perché io sono reduce da un incontro non soltanto con il dottore di sedice quindi con l'attuale amministratore della Sacal ma anche direttamente al Ministero dove appunto la situazione di Crotone è presa in esame con estrema attenzione e qui le volevo dire siccome il Presidente della Sacal De Felice ha parlato delle royalties ai comuni per poter mantenere il volo per Bergamo ecco questo ci sembra una cosa un po' assurda il diritto alla mobilità in questo caso viene pagato ulteriormente ma possono essere cittadini di serie A e di serie B può essere solo la media e salvare diciamo con un calcio d'angolo reggio e dimenticare che Crotone è tra l'altro l'aeroporto più sicuro di tutta la Calabria io assolutamente su questo io non non intendo assolutamente retrocedere di un millimetro per me la battaglia sulla mobilità l'ho detto sempre dall'inizio già in campagna elettorale quando ancora non sapevo non potevo immaginare che mi avrebbero inserito nella commissione trasporti quindi per me è stata una sorpresa ma nello stesso tempo mi sono messa a lavorare con entusiasmo perché ho capito che effettivamente poi avrei potuto concretizzare quelle che erano state le mie le intenzioni che avevo palesato nel corso della campagna elettorale il diritto alla mobilità è un diritto sacrosanto del cittadino crotonese non accetto minimamente che si parli dei crotonesi come cittadini di serie B io sono una cittadina crotonese e quindi vivo sempre ho vissuto l'ho ribadito sempre penso che chi mi conosce lo sappia benissimo ho sempre vissuto qui e non ho intenzione di retrocedere di un solo millimetro per poter affermare il nostro sacrosanto diritto alla mobilità certo c'è sempre poi qualcuno che fraintende volutamente se io parlo della strada ferrata piuttosto che dell'aeroporto piuttosto che di un altro mezzo isolata da tutti i punti di vista esattamente noi siamo sostanzialmente isolati di conseguenza in questo momento paradossalmente quello che potrebbe essere il sistema il mezzo che ci consente di avvicinarci meglio in Italia in Europa è proprio l'aeroporto quindi è la battaglia prioritaria ma sicuramente anche per quanto riguarda lo spostamento su strada ferrata noi stiamo cercando di agevolare quelli che sono i trasporti ecco per esempio abbiamo parlato del freccialink e il freccialink è artatamente qualcuno ha voluto addirittura ipotizzare che io avessi proposto un freccialink che doveva fare un giro terrificante della Calabria per raggiungere Paola la Met cioè francamente mi sono persa leggendo le lucubrazioni di questa persona il freccialink chiarisco che è una navetta che conduce le persone che devono prendere il freccia argento la mattina lo condurrebbero alla mezzia termi pomeriggio e la sera quando si rientra riaccompagnerebbero i viaggiatori a Crotone questo è molto importante perché il freccialink sostanzialmente è collegato e di conseguenza non potrebbe mai permettersi di partire o di non arrivare in tempo la mattina o di partire lasciando i viaggiatori mi sembra evidente e giusto che non tutti possano permettersi di essere accompagnati perché non tutti hanno persone che li possono accompagnare e andare a riprendere mi sembra ingiusto che le persone paghino un prezzo particolarmente elevato per farsi accompagnare da qualche insomma autotrasportatore a livello privato e mi sembra ingiusto che prendano dei treni che li costringono a delle appese assolutamente assurde e peraltro potrebbero anche rischiare di far perdere il treno quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta perché non è detto poi tra le altre cose che le persone debbano necessariamente o vogliano prendere tutti l'aereo ci può essere qualcuno che ha paura c'è la libertà di scelta io volevo anche chiederle una cosa ma è vero che il Movimento 5 Stelle il Governo sta facendo di tutto perché non si faccia il terzo megalotto che contrasta il terzo megalotto assolutamente guardi noi siamo reduci da un incontro all'ANAS e quindi c'è stato ritengo che sia stato pubblicato abbiamo preparato un comunicato io se fosse per me se avessi dovuto scrivere io ho partecipato con gli altri colleghi quindi è stato un comunicato che ovviamente abbiamo concordato però se fosse di peso da me io avrei purtroppo intitolato questo articolo a livello proprio c'era il film Toto Truffa ecco la grande truffa perché in effetti noi avendo avuto modo di verificare quello che era il progetto del terzo megalotto ci siamo resi conto che impropriamente questo tratto di strada è stato definito la nuova 106 perché questo è un tratto di strada che partendo da Roseto Capospulico con tutte le quattro corsie viadotti eccetera creando quindi non pochi problemi a livello ambientale a livello anche di quelle che sono le colture che si trovano in quella zona conduce direttamente alla stadale 534 ergo dalle parti di Castrovillari il che significa che in sostanza con questa strada si agevola il trasferimento sulla dorsale tirrenica perché arrivando dalle parti di Spezzano si riesce facilmente a mia specifica domanda sul fatto che questa strada verrà successivamente poi collegata alla 106 quindi al nostro megalotto al futuro megalotto quello di cui si sta studiando attualmente la fattibilità mi è stato risposto in maniera vaga sì no però io guardando la cartina geografica mi sono accorta che tra questa strada e la Crotone c'è il massiccio del Pollino quindi ora non lo so probabilmente forse neanche i nostri pronipoti riusciranno a vedere questa bretella che dovrebbe congiungere questo terza megalotto alla nostra città quindi ripeto si tratta di capirci questo nuovo tratto di strada non è la nuova statale 106 ma è un'altra strada impropriamente chiamata la nuova statale 106 e la statale 106 attuale peraltro rischia di non essere messa in sicurezza rimarrà com'è è una giornata interessante tenendo conto che lei fa parte anche della commissione ambiente del Parlamento quindi significa che si può guardare al futuro con un po' di fiducia no significa che bisogna cominciare a capire quale sono le emergenze di questa città e di questa regione e di quale sono le strade e le migliori pratiche che bisogna seguire per poter guardare il futuro con un po' più di fiducia quindi in realtà quando parliamo di bonifica è tutto da rivedere bisognerà aspettare dei tempi lunghi no quando parliamo di bonifica dobbiamo prendere atto a mio giudizio che la progettualità che è stata presentata oggi è largamente insufficiente rispetto alle esigenze che questa città ha così come sono risultate e come risultano da dati acquisiti emersi in procedimenti penali in procedimenti civili e indagini fatti anche dal ministero quindi noi dobbiamo lavorare per ampliare le possibilità di intervento di bonifica in questa città che non possono essere solo quelli del POV fase 2 prevista oggi e proposto oggi da Sindial ma devono avere obiettivi più ampi più ambiziosi tenendo conto che l'inquinamento che si verifica nelle città di Crotone riguarda anche zone che il castello per esempio zone che non sono immediatamente nella zona industriale zone che non sono nella zona fronte porto ma altre zone delle città e mi preoccupano in particolar modo la presenza di materiali radioattivi quando queste sostanze radioattive sono alla base di abitazioni perché lì si crea un effetto camino si crea la possibilità che l'inquinamento si moltiplica arrivando alle abitazioni di ciascun cittadino quindi diciamo che in realtà in commissione al Parlamento commissione sull'ambiente se ne può parlare in maniera diversa si può trovare il modo di ascoltare anche dei soggetti che sull'argomento sono preparati per avviare una fase nuova anche perché a Crotone si muore di cancro sì non si può si deve fare assolutamente questo io ho lanciato questo pomeriggio qui in questa assemblea la proposta di un tavolo di confronto promosso dal ministero dove devono sedere tutti i protagonisti tecnici e anche rappresentanti della cittadinanza per valutare quelle sono le vere esigenze di questa città noi sappiamo che c'è uno stanziamento che deriva da una sentenza del Tribunale di Milano al quale c'è un ulteriore incremento praticato dal ministero ma parliamo di 70 milioni di euro su una prospettiva invece di alcune centinaia di milioni di euro da spendere quindi prima di spendere questa grande massa di soldi bisogna capire dove come e come vanno fatti gli interventi passare dalle parole ai fatti passare dalle parole ai fatti ma essenzialmente costruire i fatti su prese di posizione che siano frutto di un'approfondita valutazione da un punto di vista tecnico da un punto di vista scientifico e anche da un punto di vista sanitario che che finde her